Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è Ressurrezione, e gli posero questa domanda. Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora l'ha presa il secondo e poi il terzo. E così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque ha la Ressurrezione. Di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro, i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della Ressurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli. E poiché sono figli della Ressurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Questa domenica vediamo un tipico incontro di Gesù con i Suoi avversari. Gli ebrei non usano per porre una questione dei termini astratti, non sono i greci che sono dei filosofi che usano i concetti. Per presentare una domanda raccontano una storia. Naturalmente è una storia inventata, una storia assurda da un certo punto di vista, ma proprio per mettere in ridicolo la tesi dell'avversario. In questo caso i Sadducei, che erano i grandi sacerdoti, erano l'elite religiosa del tempo e anche del Tempio, erano quelli che gestivano il grande Tempio di Gerusalemme e non credevano, può sembrare strano, ma era così, non credevano alla resurrezione, non credevano alla vita dopo la morte, come tra l'altro la maggior parte dell'Antico Testamento pensavano a una vita di ombre, un po' come i greci per l'Ade, ecco diciamo, nello Sheol, che è il regno dei morti, non è la vera vita, la vera vita è questa. E quindi pongono a Gesù questa storiella della donna che ha avuto sette mariti e dice, nell'aldilà di chi sarà la moglie di questi sette mariti, era un modo per dire, vedete quanto siete sciocchi a credere in una vita futura. Ecco Gesù li corregge in maniera molto forte, pensate, è come parlare con i cardinali in un certo senso, erano i grandi sacerdoti del Tempio, no? E Gesù dice, voi siete in grande errore, voi siete in grande errore, perché nella vita futura non si prendono moglie e marito, né si può più morire, perché tutti sono uguali agli angeli di Dio, figli della Ressurrezione, figli di Dio. Come dire, nell'altra vita, non nel senso che non ci si riconoscerà, ma nel senso che tutto sarà trasformato, non ci saranno più i legami di tipo fisico, sessuale, ma sarà un altro mondo, il mondo trasfigurato dalla vita e dall'amore. E poi, siccome i Sadducei non davano tutto lo stesso valore alle scritture, ma solo al Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, Gesù va a prendere una citazione proprio del libro dell'Esodo, una pagina famosissima, quella del Roveto, in cui Dio si presenta a Mosè dicendo, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e Gesù commenta, Dio non è il Dio dei morti, Abramo, Isacco e Giacobbe erano vissuti secoli prima, ma dei viventi, tutti vivono per lui, bellissima, esegesi di Gesù dell'Antico Testamento, tutti vivono grazie a Dio, Dio è il Dio della vita, e proprio perché il Dio della vita tiene in vita tutti i suoi figli, ama tutti i suoi figli, in questi giorni che noi dedichiamo in maniera particolare al ricordo dei nostri cari defunti, andando lodevolmente a visitare i cimiteri, pregando per loro, facendo dire messe per i nostri cari, offrendo sacrifici, offrendo offerte, insuffragio dei nostri cari, facendo beneficenza per ricordare un nostro caro, sono tutti gesti molto belli, molto importanti se vissuti bene, perché? Perché i nostri cari sono vivi in Dio e noi un giorno li rivedremo, questa è la speranza che ci ha dato Gesù, questa è la speranza che dobbiamo tenere accesa nel cuore, ogni volta che aiutiamo a far fiorire la vita ci avviciniamo a Dio, Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. sia per i nostri cari, insuffragio dei nostri cari, a pensare principi dei nostri cari Grazie a tutti.